La storia di Prato Inse di Prato scopriamo alcuni dei frascoli più bellissimi di tutta la renaissance. Si depilano le storie di San Stephen e di San John the Baptist. L'artista è Filippo Lippi e Avasari describono la creazione come il più eccellente di tutto il suo lavoro. Questo ciclo di fresco rappresenta un momento vero in un'artistoria. Lippi è un nuovo approccio in un'innovazione di un masaccio, che è morto di 27 anni. L'altro, il stile ha un grande impatto sulle pittazioni dei grandi Botticelli. Lippi è iniziato a dipintare il cappello in 1452, aided, come sempre, da lui loyale assistente Fra Diamante e anche da un paio di artisani locali. Inoltre il suo ruolo, il ciclo ha avuto più di 13 anni per completare, principalmente perché delle misadventure di Lippi non per nascondere la loro attività legale. In fine, Lippi ha ottenuto quasi 2.000 florini per il suo lavoro, una ricordata per l'artistica. Un'attività recentemente, fondata dal Ministero per i Veni e le Attività Culturali, ha portato i colori e la tridimensionality di Lippi Lippi's figure back to their original splendor. È stato uno dei progetti più importanti di Restorazione in Italia e ha durato 5 anni. con l'acqua e la tridimensionality di l'artistica, il famoso Salomè, in probabilità la ricerca di Lucrezia Buti, madre di Lippi's children e un obiettivo di la sua più ardente affezione, ha regalato la sua precedente caratteristica. non per nascondere tutti gli altri soggetti in l'artistica che ci possiamo adesso admiare solo come Lippi paintedla. Chiara Valentini, C10